Vorrei fare anche un'altra cosa, siamo arrivati qui per dire grazie, grazie a medici e infermieri, grazie a chi sta combattendo per noi negli ospedali, grazie, grazie veramente, sappiamo che non è venuto nessuno ad abbracciarmi e invece vi regaliamo questo abbraccio collettivo della Roma che vi sta vicino, della Roma che vi abbraccia, della Roma che conosce le vostre fatiche in questo momento. Siamo anche noi lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse e vi diciamo grazie dal prodotto del nostro cuore. Non mollate, non mollate, noi ci continueremo a battere per avere più medici, più infermieri, più salvezzi, più terapie intensive, perché è una battaglia comune per non lasciare nessuno indietro. Grazie.